Non devi tirare in porta in una partita, cioè Gomez non ha fatto un tiro nello specchio della porta. Non ho capito. Eh no, perché non ti chiede, no, cioè vuoi dire che sei stato un grande centro avanti. Cioè non tira mai Gomez. E questo è un fatto che ti preoccupa o poi no? Ma Gomez è il nostro attaccante, Gomez è il giocatore di cui la squadra si appoggia. Vogliamo di più, va ora a parlare se è da lui. In termini finalizzativi, perché siamo una squadra che crossa di più, non la terza forse nel campionato, forse sbagliamo pure tanti cross, ma sbaglia siamo una squadra che arriva di più, che gioca di più nell'altra metà campo. Quindi ci aspettiamo di più, però ogni volta non si può parlare, non posso focalizzare, parlare sempre dei singoli in questa fase di Gomez. Ce l'abbiamo, ce lo doniamo, lo sosteniamo e magari ci sarà grande soddisfazione da qua la fine. Se vi ci sarà, ma neanche ci sono...